Grazie, grazie. Vorrei veramente cominciare con il film stesso. Sono molto felice di tornare a Napoli perché è un posto che mi sta più al cuore di quasi tutti gli altri. La sceneggiatura non è il film, è una cosa che si può avere, ma anche non si può avere. Tutto il segreto del linguaggio cinematografico è...